coccinella arlecchino in un casolare di campagna seduto sul balcone ammiravo il verde e gli insetti che avvertiti i primi freddi autunnali si davano un grande affare nelle loro incombenze tra questi delle coccinelle arlecchino sono delle coccinelle più grandi delle nostre le nostre hanno sette punti neri generalmente hanno un corpo scuro con quattro macchie rosse o sono arancioni rosse con tanti o pochi punti neri di coccinelle se ne contano 500 specie e quindi per fare chiarezza nel dettagliare occorrerebbe un saggio comunque le arlecchino sono di origine asiatica e sono state importate in europa ed in america per affiancare nel loro ruolo di predatrici di afidi altri insetti dannosi alle culture della già sperimentata coccinella europea il risultato non è stato positivo visto che la coccinella arlecchino preda anche la coccinella nostrana ma non è stata neanche utile per le coltivazioni perché ad esempio nel corso del suo sviluppo a 5 4 stadi larvali danneggia ciò per cui è stata introdotta per esempio la vite la coccinella in generale è associata alla fortuna si narra che sia stata generata da giunone come dispensatrice di luce e amore e anche che in analogia alla madonna vestisse un manto rosso con sette punti neri altrove anche fuori dall'italia la coccinella indicata come insetto della donna o della signora penso che dire coccinella è come dire fortuna solo se il suo sviluppo è casuale altrimenti potrebbe essere alterazione ricordo a tutti che questi video sono fatti in collaborazione con mauri di zero village mi raccomando iscrivetevi al suo canale telegram qui sotto troverete tutti i link se il video vi è piaciuto mettete un like iscrivetevi al canale e alla prossima